Pré de Pascal, 1904 metri, in Val Veni, di fronte al Monte Bianco. Questa è la strada sterata che conduce a Cuba a Zeleuna, chiusa al traffico ma adatta alle mountain bike. E questo è lo spettacolo del Monte Bianco, il suo ghiacciaio, di fronte a noi. Qui c'è il ristorante Pré de Pascal e questo è il tornante dove termina la strada asfaltata.